Benedire che vuol dire? Vuol dire chiedere al Signore che accompagni con benevolenza le cose belle che si fanno, compresa questa, però dobbiamo stare attenti, mentre chiediamo al Signore di accompagnare con benevolenza, noi dobbiamo metterci anche il nome del nostro, dobbiamo fare in maniera tale che queste cose belle non vengano rovinate da noi, quindi siamo un po' tutti quanti custodi di tutto, il Padre Eterno lo possiamo chiamare, però lui dice a noi voi però fate la vostra parte, quindi non è che adesso benediciamo e diciamo al Padre Eterno vedi te la tu, il Sindaco deve farlo pulire, noi dobbiamo cercare di valorizzarlo per bene e allora la benedizione sarà una cosa seria, ma se invece pensate che questo è un rito magico, vi siete sbagliati perché sono uno strigore, va bene, sono soltanto un semplice cristiano che crede che l'impegno di ognuno può rendere più bene il nostro mondo, siccome da soli molte volte non ce la facciamo, chiediamo aiuto al Padre Eterno, ecco il senso della benedizione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la gioia e la pace di Dio nostro Padre siano con tutti voi. Salve a te la nostra lode, oh Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani, da sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi destinati al tempo libero accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenita dell'anima. Fa che quanti lo frequenteranno questo luogo sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia, della relazione e superando ogni forma di violenza promuovano la civiltà dell'accoglienza. Per Cristo, nostro Signore. Amo. Braviva Signore nel segno di quest'acqua benedetta il nostro ricordo del Battesimo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questi luoghi e su quanti li frequenteranno. Amo. Stai, spegni a riuscire, riaccendo. Ringrazio tutti i sindaci che sono presenti, dal sindaco di Castrovilla, al quale faccio gli auguri di buon lavoro, al sindaco di Cassano, stessa cosa perché sono neoletti, il sindaco, l'amico sindaco di Roseto, l'amico sindaco di Frangavilla Marittima, se c'è qualcun altro che non ho visto chiedo scusa, mi sfugge, però quelli sono gli amici che ho visto subito e quindi ringrazio. Ringrazio anche Sua Eccellenza Ivesco che ha voluto essere presente a benedire questa manifestazione, Sua Eccellenza Ivesco col quale ci troviamo in questo periodo anche d'accordo su come lavorare per sviluppare meglio il territorio, quindi un ringraziamento particolare. Ringrazio l'onorevole Magarò che ha voluto, il consigliere regionale, il presidente della commissione antimafia della regione Calabria, che ha voluto veramente essere presente nonostante l'avesse avvisato soltanto stamattina. Amici, buonasera, siamo a Villapiana Lido sul lungomare insieme al sindaco di Villapiana Roberto Rizzuto, qui stasera per inaugurare questa ennesima opera importante, appunto, sindaco Rizzuto. Un altro tassello importante nel mosaico dell'urbanistica villapianese. Beh sì, io ricordo quando ci presentavamo alle elezioni la nostra lista si chiamava Villapiana Cresce, perché eravamo convinti che avremmo portato avanti, vincendo l'elezione, un progetto di grande crescita di Villapiana, soprattutto nel settore delle opere pubbliche dal punto di vista urbanistico. Questo è un tassello importante perché va a chiudere una partita di questa zona di collegamento, diciamo, tra il lungomare e il sottopasso, l'ingresso del lungomare, con il sottopasso grande di 113. E veramente ora possiamo dire che Villapiana ha una bella e degna passeggiata qui a Lido, nella zona dei Lidi e sulla spiaggia. È un'opera importante perché è stata voluta fortemente da questa amministrazione comunale, nonostante, è bene che lo diciamo, altrimenti rischiamo, come dire, di avere equivoci. È un'opera che è stata voluta fortemente perché questa era un'opera progettata con dei fondi regionali. Poi purtroppo la regione ha tagliato i fondi e l'abbiamo fatta solo ed esclusivamente con fondi comunali. Io ritengo che questo è proprio perché volevamo essere un messaggio importante e perché volevamo dare un messaggio importante. La città deve continuare a crescere. Ho sentito ultimamente alcune polemiche sul fatto di quest'opera o meno. Io invito a chi deve fare attività politica anche di minoranza, e non parlo dei consiglieri comunali di minoranza, di venire a vedere e tenersi conto che probabilmente questo è uno dei fiori all'occhiello della nostra città, anche perché è ideata e progettata da tre ragazzi giovani, progettisti, tecnici di Villapiana, quali sono l'architetto Bastanza, l'ingegnere Tunno e il geometra Vitola. Un fiori all'occhiello ora sta a noi, a tutti i cittadini, preservarla e manutenerla nel miglior modo possibile. Sono veramente soddisfatto, ma non ci fermiamo qui, andiamo avanti, perché la città continuerà senza altro a crescere con nuove inaugurazioni e nuove opere pubbliche che continueranno a dare un volto più bello, un volto nuovo alla nostra città. Ecco appunto, prima diceva che è difficile che ci saranno nuove inaugurazioni, qua qualcuno la chiama il sindaco delle inaugurazioni, penso sia un buon complimento, perché cantierare e concludere un'opera al giorno d'oggi non è facile in una sola amministrazione. Ricordava anche il completamento del progetto per la sicurezza stradale, quindi la pista ciclabile dello scalo, a che punto sono i lavori, più o meno data di consegna? Io non amo dare delle date, anche perché come vedete le inaugurazioni facciamo nettamente dopo che vengono completati i lavori, proprio per essere sicuri di quello che facciamo. Non ci piace annunciare per poi, dopo, non rispettare. Noi le annuncieremo nel momento in cui ci renderemo conto che saranno finite ormai, manca soltanto il bitume, da quello che ho capito. E credo che si stia ritardando soltanto per il molto lavoro che stanno avendo le ditte dei bitumi in giro per la provincia di Cosenza. Sarà un'altra opera che inaugureremo? A me fa piacere che mi chiamano il sindaco delle inaugurazioni e dei nastri, ci mancheremo, vuol dire che le cose si fanno. E poi dopo, se questo qualcuno dà fastidio, francamente a me non interessa. A me fa piacere che ci sia tanta gente a godersi questo privilegio, perché veramente basta guardarsi intorno per rendersi conto che in altre città non si muove una foglia. Ma non perché non sono bravi i sindaci, ma perché c'è quasi impossibilità a investire, perché abbiamo questo maledetto patto di stabilità che ci sta strangolando. Io ho fatto prima riferimento alla ditta che ha fatto i lavori, la ditta ancora non ha preso una lira, ma non perché Comune Villapiano non ha i soldi. Comune Villapiano i soldi ce l'ha del mutuo. Non lo può pagare, altrimenti sforre il patto di stabilità. Ora dobbiamo prendere decisioni importanti e come al solito queste decisioni, dopo stanno solo sulle mie spalle, ma le prenderò bombe un e indietro perché prima di far fallire una ditta, prima di non dare da mangiare dei dipendenti, ci penserò 50 volte e non una volta, a costo di sforare nuovamente i patto di stabilità. Voglio dire una cosa, io questa opera ho dimenticato di dirla sul palco, ma la voglio simbolicamente dedicare alle famiglie che hanno subito i danni dell'ingeggio dei giorni scorsi, perché hanno rischiato veramente di avere gravi rischi alla loro incolumità, ma anche di perdere le proprie abitazioni. Quindi erano qui presenti, perché lo invitate personalmente, simbolicamente le dichiamo a loro, perché credo che sia importante questa sinergia tra chi crea le opere, chi taglia i nastri, l'amministrazione comunale, ma soprattutto i cittadini. E con i cittadini questo legame si deve sempre rafforzare di più. Quindi una buona politica di urbanistica, una buona politica ambientale, avviamo la raccolta di Ferenziamo e puntiamo alla bandiera blu per Villapiana? Questo sarà un obiettivo che sono convinto, non so in quanto tempo raggiungeremo. La raccolta di Ferenziati si sta lavorando per fare una raccolta di Ferenziati seria. Le risorse sono quelle che sono, ma il Presidente dell'ABSV, che ringrazio anche per la Polizia che ha tenuto in questi giorni, sta lavorando per presentare a noi un progetto serio, duraturo, e che possa dare veramente, anche in questo caso, nel campo della nettezza urbana, un nuovo volto, un volto più pulito alla nostra città. Sono molto fiducioso e credo che all'inizio dell'anno scolastico cominceremo ad andare nelle scuole a spiegare come vogliamo fare la raccolta di Ferenziati. Oggi è un giorno di festa, festeggiamo il lungomare. Una parola per quanto riguarda invece questa notizia delle chiusure degli uffici postali, che sembra toccherà anche Villapiana, si sa qualcosa di preciso. Questa è una notizia nuova. Veramente fino ad oggi mi sono preoccupato di un altro fatto scolastico. Hanno tolto la dirigenza scolastica Villapiana e evidentemente stanno continuando su questa falsa riga. Nella qualità di sindaco farò di tutto per impedire anche la chiusura degli uffici postali. Dieci anni fa avevano provato a fare un blitz, non ci sono riusciti perché c'erano mossi con allora il sindaco Bria, che continuo ovviamente anche in questa occasione a ringraziare per tutto quello che ha dato a Villapiana. Ma da domani cominceremo a lavorare, visto che mi hai dato questa notizia in anteprima, perché francamente non lo sapevo, anche perché abbiamo un assessore che è direttore dell'ufficio postale di Villapiana. Ci muoveremo in questa direzione. È ora di smetterla. Non si può... Sta facendo una cura di cavallo, solo che quella cura con quelle medicine stanno ammazzando il cavallo. Ora è ora di smettere a pensare seriamente, seriamente che le città possono crescere. Ci può essere una ripresa economica se si continuano a investire, come stiamo facendo noi. Altro che chiusura. Qua dobbiamo aprire per dare servizi. Purtroppo la responsabilità di dare i servizi poi la lasciano soltanto ai comuni. Questa è la verità e questa è la situazione. Purtroppo nuda e cruda. Nelle nostre facoltà, negli poteri che abbiamo faremo di tutto, farò di tutto. Per evitare altre chiusure qui a Villapiana. Auguri di nuovo e buon lavoro per il proseguo dell'estate. Auguri alla città. Allora, consigliere Magarò della Commissione Antimafia. Qui stasera per portare il suo augurio anche da parte dell'istituzione che lei rappresenta al sindaco di Villapiana per l'inaugurazione di questo splendido lungomare. Sì, quando si inaugura un'opera pubblica che serve a sviluppare, a migliorare le infrastrutture della nostra regione, penso che è una giornata di festa. E oggi è una giornata di festa perché il sindaco di questo bel paese ha consegnato l'opera programmata prima dell'estate o nel mezzo dell'estate per farla fruire ai tanti visitatori, ai tanti turisti che affolleranno questo territorio e la nostra regione. È una giornata di festa perché la qualità di un'amministrazione, penso, si misura soprattutto nel creare opere infrastrutturali necessarie a sviluppare e a modernizzare il nostro territorio. Poi la serata è molto partecipata, è un'opera pubblica importante, ritengo, non solamente perché protegge il mare ma anche e soprattutto perché consente alle persone che vi abitano abitualmente, ma ai turisti di poter utilizzare le piste ciclabili, di poter fare footing, di poter camminare in tranquillità per golersi un attimo di riposo e respirare il buon profumo di questa pineta e di questo mare. Lei si occupa spesso di problemi sociali anche della nostra regione, quanto è importante appunto la buona amministrazione e il fatto di consegnare in così breve tempo delle opere cantierate dando un'immagine appunto di buon lavoro anche a chi viene da fuori. Sì, le buone pratiche di amministrazione sono necessarie per sconviggere l'illegalità, per contrastare l'antrangheta e per dimostrare che in Calabria c'è anche la buona politica e ci sono anche le buone pratiche di amministrazione. Programmare e consegnare un'opera pubblica nei tempi stabiliti non sempre accade nella nostra regione, per questo bisogna lodare il sindaco di questa cittadina perché è dinamico, capace, determinato, coraggioso e conosce bene i problemi della sua comunità. Le buone pratiche sono anche necessarie perché molte volte dietro le progettazioni ci sono lavori che non veniscono mai, ci sono tante perizie di varianti e dietro le perizie di varianti ci sono tante incompiute e tante opere che non vengono mai ultimate. Io penso che queste buone pratiche di amministrazione dovrebbero essere sempre di più e dovrebbero contagiare tutta la nostra regione. Per fortuna in Calabria ci sono tanti bravi sindaci, tanti buoni imprenditori, tanta brava gente che vuole dimostrare che in Calabria è possibile voltare pagina, in Calabria non c'è solamente l'andrangheta, la mafia, l'illegalità ma ci sono buone pratiche di amministrazione e ci sono comportamenti onesti e corretti perché sono convinto che l'illegalità si combatte non solamente con le sentenze e con gli arresti ma si combatte con le buone pratiche, con i comportamenti corretti, con i comportamenti esemplari e con le azioni concrete. Stasera abbiamo un'azione concreta di consegnare ai cittadini, ai turisti di questa vasta area un'opera pubblica importante che vuol dire sviluppo, occupazione, lavoro e vuol dire anche mettere a tacere quell'antipolitica che purtroppo si sta anche diffondendo nella nostra regione. Grazie per il suo contributo e buon lavoro. Grazie, buon lavoro.